18 anni lei, 42 lui. Lei, Irene Lizziero, studentessa di paese e stagista di Air 3, rischia di soffocare mentre sta mangiando una mela durante la pausa pranzo. Non riuscivo a reggermi in piedi, poi proprio avevo il senso di soffocamento. A soccorrerla e salvarla, l'assistente capo della Polari del Canova. Sapendo più o meno come attuare questo tipo di manovra di Helmik, che è una manovra che si fa quando una persona si sente soffocare, quando mangia qualcosa di strano, che non riesce a digerire. Mi sono messo di buona lena a praticare questa manovra qua. La storia e le tuffine è avvenuta il 4 novembre scorso. Anche questo fa parte del nostro mestiere, riuscire a intervenire, ma ripeto, soprattutto con prontezza, nervi saldi e lucidità a salvare la vita.